Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, saremo questa sera insieme al dottor Paolo Paladini. Il dottor Paolo Paladini è un medico chirurgo, ortopedico e specialista per quello che riguarda la spalla. Questa articolazione è così importante nel nostro organismo, questo meccanismo perfetto è quindi così delicato. Ci illustrerà tutte le caratteristiche dell'articolazione e le possibili patologie che possono intercorrere, ma soprattutto le modalità per curare questi dolori. Dottor Paolo Paladini, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, un grandissimo specialista della spalla. Questa articolazione è così importante per tutti noi. Buonasera dottore. Buonasera, sono Paolo Paladini e benvenuti a tutti. Sono il direttore dell'unità operativa di chirurgia ortopedica della spalla dell'ospedale di Cattolica, detta chirurgia ortopedica della spalla Romagna e mi occupo di chirurgia della spalla del gomito. Sono attualmente il presidente della società italiana di chirurgia della spalla del gomito, tale mandato finirà alla fine di quest'anno e passerò quindi a essere il past president di questa società, rimanendo seduto nel board della società per dare consigli a chi mi succederà. La chirurgia della spalla del gomito è un capitolo che per me ha rappresentato praticamente tutta la mia storia, in quanto già dal 1995 mi sono cominciato a interessare di questa articolazione e quindi queste due articolazioni hanno rappresentato tutto il mio trascorso, il mio curriculum. Il reparto di chirurgia della spalla del gomito di Cattolica è un reparto all'eccellenza, è un reparto che si occupa di questo dal 2005, da quando l'abbiamo fondato insieme al dottor Porcellini e al dottor Campi, grazie all'intuizione del dottor Caradori all'ora direttore generale come ora dell'azienda Uso Romagna e quindi è un reparto che da anni si dedica a questo e in tutti questi anni abbiamo accumulato un know-how dell'esperienza che ci permette di essere all'avanguardia in Italia e non solo in Italia. E siccome lei ha questo lungo percorso professionale, un curriculum così ricco e una grande esperienza sul campo sicuramente ci può dire qualcosa riguardo alla diagnosi precoce dei problemi alla spalla, perché tante volte tutti noi ci sentiamo con qualche dolorino, con qualche problema, lasciamo perdere, mentre invece se agissimo subito, se andassimo subito dallo specialista per capire di cosa si tratta, molto probabilmente avremo meno problemi. Sì, sicuramente avremo problemi e sicuramente potremmo utilizzare meglio le risorse che abbiamo, nel senso che la chirurgia, come tutte le chirurgie, ha bisogno di una base diagnostica importante, cioè innanzitutto bisogna fare una diagnosi. Per fare una diagnosi la mia idea è partire sempre dall'esame di base. Una radiografia sembra l'esame più banale del mondo, sembra l'esame meno utile del mondo, ma è un esame che ci permette di fare una diagnosi differenziale tra patologie gravi e patologie non gravi, tra patologie semplici da risolvere e patologie difficilissime da risolvere, ma la diagnostica è importantissima perché la radiografia da sola ci permette di fare questo grosso screening. A questa radiografia devono seguire nel tempo altri esami se questi sono essenziali, se servono. Una risonanza magnetica è sicuramente l'esame che dopo la radiografia ci dà delle informazioni maggiori, ma fare una risonanza magnetica senza aver fatto la radiografia significa avere comunque una lacuna diagnostica che può essere colmata solo ritornando indietro a fare un esame così banale che bisogna fare per primo. Quindi gli esami ci servono, è importantissimo avere una risonanza magnetica di buon livello perché una risonanza magnetica di buon livello ci permette di individuare prima una lesione e una lesione piccola trattata tempestivamente ha dei risultati sicuramente migliori di una lesione che poi viene lasciata a se stessa, non viene individuata, viene magari trattata con trattamenti che tolgono il dolore ma non risolvono il problema e quindi a lungo termine poi diventa dannoso perché ci ritroviamo con una lesione sempre più grande sulla quale intervenire si può, ma i risultati non sono sicuramente gli stessi di un intervento fatto con una diagnosi precoce. Poi ovviamente qui, lei l'ha detto, chirurgia, chirurgia della spalla. Quando poi arriva il momento di dover intervenire chirurgicamente siamo di fronte a una situazione che grazie all'evoluzione della scienza e delle tecnologie oggi ci permette di affrontare meglio, ma certamente che ci sono delle prospettive ben precise su quella che si può individuare come chirurgia della spalla, dottore. Sì, la chirurgia della spalla ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni, non solo negli ultimi anni, è nata più o meno 25 anni fa come chirurgia, prima non si conosceva praticamente nulla di questa articolazione, adesso possiamo permetterci di riparare in artroscopia lesioni dei tendini, possiamo riparare lesioni dei legamenti che creano instabilità e col tempo siamo diventati più bravi anche nella chirurgia aperta, facendo la chirurgia artroscopica. Adesso abbiamo la possibilità di impiantare delle protesi facendo dei mini accessi, di fare delle protesi navigando queste protesi, quindi avendo un monitor che ci illustra la posizione in cui stiamo mettendo le viti, che ci illustra la posizione in cui stiamo mettendo la protesi e ci permette quindi di replicare sul paziente un impianto virtuale che noi abbiamo già fatto sulla TAC del paziente e quindi di riprodurre esattamente quella che è la soluzione migliore per il paziente avendola già programmata sul software e avendola già valutata sul software per quello che è il maggior movimento che è possibile dare a questo paziente. Quindi quando si parla di artroscopia si parla comunque di un intervento chirurgico mini-invasivo come è stato giustamente definito da lei e quindi sicuramente per noi pazienti fa meno paura. Sì, fa meno paura anche se bisogna ricordarsi che un'artroscopia è un mezzo per ottenere lo stesso risultato che si poteva ottenere con la chirurgia aperta, quindi non bisogna pensare alla chirurgia artroscopica come una chirurgia che può fare solo cose piccole o le può fare facendo le mini-invasive, no, può fare tantissime cose. Si tratta di avere la dimestichezza di lavorare con una telecamera e quindi di non guardare direttamente sul paziente ma di guardare sul monitor ma ci permette di riparare tendini, di fare trasposizioni muscolari, di andare a liberare nervi. Quindi ci permette di fare tutto quello che facevamo in chirurgia aperta ma chiaramente limitando l'accesso e quindi creando delle morbidità minori perché è chiaro che un paziente con un taglio di 10, 12, 15 centimetri ha un approccio differente alla riabilitazione rispetto a quello che può avere un paziente con tre piccoli buchi delle dimensioni di un'unghia. Dottore, in conclusione, lei ha dimostrato davvero in questi minuti una grandissima capacità di spiegarci cose apparentemente difficili rendendole facili, ma la domanda che io mi pongo, da dove nasce la curiosità a un certo punto in quello che è una vocazione come è la professione medica di dire mi dedico alla spalla? Era un terreno meno inflazionato, era un terreno sul quale si sapeva molto poco. Io, come le dicevo, ho iniziato nel 95 da specializzando ad andare a lavorare in un ospedale inglese per due mesi con le difficoltà della lingua che c'erano in quel periodo, con le difficoltà perché era una chirurgia che io non avevo mai visto, era una chirurgia sulla quale non trovavo riscontro se non nelle letterature e quindi la curiosità mi ha spinto a fare questo. È stato un passaggio forse alla fine all'inizio un po' improvvisato perché sono andato lì non sapendo veramente nulla di questa patologia e di questi trattamenti, ma poi una volta catapultato in quel mondo la curiosità ha preso il sovravvento, era un terreno dove non si sapeva tanto e quindi la crescita è stata molto veloce e quindi questo ci ha spinto a dare sempre di più. Grazie dottore, ha espresso due concetti interessantissimi, quello della curiosità che davvero muove le persone e quello della passione che poi fa sì che veramente ci si applichi al meglio in quello che si può fare. Dottore grazie davvero. Grazie a voi, grazie a voi è stato un piacere, buona serata. Buona serata a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.